Martina Patti ha ucciso sua figlia Elena perché la odiava, non perché era pazza. Martina negli ultimi tempi si era ammalata di rancore, quel rancore misto ad odio che ha portato ad ammazzarla. Elena aveva conservato un buon rapporto con il padre e adesso anche con la nuova compagna, quindi la sua vita doveva essere sacrificata per vendetta nel peggiore dei modi. Martina Patti ha premeditato ogni singolo passaggio, ma quello che è ancora più agghiacciante è che ha scavato una fossa per averla già pronta, pronta per occultarne il corpo una volta uccisa. Undici le coltellate, qualcuno parla di quindici, soltanto una è stata fatale. Elena non è morta subito, ma ha attraversato un lungo stato di agonia. Una madre malvagia Martina, perfettamente consapevole di ciò che stava facendo. Avrebbe potuto tirarsi indietro in ogni momento, ma non lo ha fatto. Ha agito, non in preda ad una lucida follia, ma ad una lucida capacità di intendere e di volere.